I recenti fatti che hanno coinvolto l'Emilia Romagna con una devastante allovione rimettono al centro il tema della sicurezza, delle aste fluviali, della pulizia dei corsi d'acqua. La Regione però oggi apre alla provincia con un progetto di legge. Da tempo la provincia dell'Aquila infatti su questo fronte chiede un riscontro alla Regione per il mantenimento delle competenze relative ai fiumi minori con una cessità di risorse pari a 1,5 milioni di euro annue per le manutenzioni. Un problema rimasto sospeso sin dall'attuazione della legge del Rio del 2015 che prevedeva il passaggio delle competenze sulle aste fluviali minori dalle province comuni, quali hanno sempre rifiutato di svolgere la nuova funzione. Segnali positivi però oggi ci sono, spiega il Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Con le sollecitazioni che abbiamo rivolto alla Regione Abruzzo abbiamo ottenuto un passo avanti che è stato quello di una proposta emendativa rispetto a quella che ci avrebbe imposto il trasferimento ai comuni rimasto inattuato. Per cui oggi stiamo discutendo sostanzialmente di una proposta di legge che prevederebbe il mantenimento in capo alle province delle competenze sulle aste minori, quindi quelle secondarie, con ovviamente un sostegno finanziario necessario perché parliamo di chilometri di aste fluviali che necessitano interventi anche importanti alla luce anche di un periodo sostanzialmente di inattività. Ecco, è molto importante questo tema anche alla luce di quello che sta accadendo in Emilia e in altre parti d'Italia, insomma la manutenzione anche dei corsi d'acqua è un elemento essenziale. Sì, è fondamentale, qui ovviamente parliamo di incolumità pubblica e privata, parliamo di temi che non possono essere trascurati ma soprattutto oramai alla luce di quelli sono fenomeni atmosfere sempre più violenti non possiamo più rinviare questo tema, soprattutto anche vediamo nelle stagioni primaverili i fenomeni sono molto accentuati quindi la decisione non può che essere assunta tempestivamente come stiamo chiedendo. Grazie a tutti.